Leoncio, nelle statistiche individuali della stagione, nel tuo girone, hai la valutazione più alta. Su di te commettono tanti falli, sei un giocatore pericolosissimo, lo hai dimostrato anche nelle finali, dove hai una media punti più alta di tutti. Bravo tu sicuramente, ma anche la squadra che ti mette nelle giuste condizioni. Certo, mi ha seguito mettere nelle giuste condizioni in tutte e quattro le partite della finale, ma anche della semifinale. Anche perché non erano partite facili, infatti sono state veramente molto tirate, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Mi hanno saputo mettere nelle giuste condizioni di rendere al meglio sia l'allenatore che la squadra. Adesso affrontate Milano, un inedito, perché non avete mai affrontato una squadra del genere che milita nel girone A. Ma che notizie avete di questa squadra? Sappiamo anche noi che soprattutto come batteria di lunghi è molto temibile. Voi forse avete dalla vostra una maggior freschezza, siete un po' più giovani come media d'età. Sappiamo che non solo i lunghi sono forti loro, ovviamente anche i piccoli. Scanzi ha vinto un campionato con Orzi Nuovi due anni fa, quindi è un giocatore molto temuto tra i piccoli. Sappiamo anche che sono una squadra molto fisica, quindi noi dovremmo riuscire a tenere botta alla loro fisicità, ma loro dovranno stare attenti anche alla nostra freschezza che abbiamo dimostrato in queste ultime partite. La prima gara sicuramente è fondamentale contro Milano, però toccando ferro e qualora andasse male avete un'altra possibilità. Quindi insomma su quattro squadre il 75%, 3% vanno su in A2, è una bella percentuale da sfruttare. Beh è una bella percentuale, ma ovviamente noi daremo tutto alla prima partita perché sarà la più importante. Sperando, toccando ferro, di non arrivare al giorno dopo, festeggiremo tutti quanti insieme sabato sera. A proposito di feste, anche i vostri tifosi sicuramente si stanno organizzando, voi mentalmente come concentrazione, loro si stanno organizzando con Pullman e Automobili per seguirvi. Un messaggio a loro, magari di far sentire ancora di più il loro calore? Beh sanno che sono stati il nostro sesto uomo in campo nelle ultime partite. Si è visto, l'hanno visto tutti quanti, quindi spero che vengano tutti quanti a sostenerci e attivarci come hanno fatto fino ad ora.